Questo importantissimo convegno che si inaugura con una abitudine che avevamo un po' perso, cioè quando facciamo le riunioni online dobbiamo necessariamente essere tutti precisi e invece finalmente ci vediamo di persona e ci possiamo permettere i dieci minuti accademici in cui possiamo salutarci, in cui possiamo sostanzialmente rivedere le persone che non vedevamo. Quindi se ci accomodiamo... Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Adesso si dice con le dita incrociate per il verso giusto, nel senso che c'è molto fermento, ci sono tantissime novità, tantissime cose anche nel settore della rivoluzione. E terzo che abbiamo fatto un grandissimo regalo l'amministrazione che ringraziamo non solo per dovere d'ospitalità ma veramente perché abbiamo tutta l'alta dirigenza della nostra amministrazione, del ministero dei trasporti e della motorizzazione qua in questo convegno per illustrarci quelle che sono le evoluzioni del sistema di revisione. Quindi diciamo che è una ripresa non solo fisica tra di noi ma è anche una ripresa di rapporti. Ringrazio tutti quanti nella persona ovviamente del direttore generale Pasquale Danzi che è qui con noi. E ultimo ma non per importanza ringrazio l'ingegner Carlo Giannuzzi, presidente di Alpi che ha promosso questo tipo di iniziativa. Ringrazio anche le organizzazioni sindacali che sono presenti in questa sede. Quindi in questa sede abbiamo tutti, abbiamo l'amministrazione, abbiamo le organizzazioni sindacali, abbiamo i costruttori di autoattrezzatura e quindi possiamo cominciare a fare quello che ci piace. Cioè andare a lavorare, a me piace a se che dire buona fiera, buona qui, andiamo a lavorare, è quello che ci piace dire. Quindi cedo immediatamente il palco all'ingegner Carlo Giannuzzi che introduce i lavori in maniera diciamo opportuna entrando nel merito tecnico delle cose. Dov'è l'ingegnere? Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua l'ingegnere. Prego ingegnere, prego ingegnere. Grazie. Io sono microfonato quindi possiamo mettere qua. Penso mi sentiate. Sì, bene. Un saluto affettuosissimo a tutti. Quindi me casca qualcosa. Quindi adesso chiamiamo la regia e chiediamo a Grassi se me lo rimetto a posto. La giornata è particolare ed è sicuramente molto densa di significati in quanto stiamo ripartendo dopo un lungo periodo di fermo che si protrae grossomodo dall'agosto del 2018. Io mi ricordo che l'ultimo provvedimento che l'amministrazione mise in funzione fu il 211 del 2018. Per l'appunto. Scusi, dovrebbe aiutarmi a rimettere questo coso che si sgancia facilmente. Ci siamo? Sti microfoni sono delirio, scusate. Non siamo abituati a questo tipo di presentazione, a questo tipo di esibizione. A mod di Mike, buongiorno. Quindi dicevo, è un'emozione particolare per tutti. Il ringraziamento va evidentemente al dottor Servasei e alla sua organizzazione che ha permesso di dare questo magnifico palcoscenico con un'organizzazione, devo dire, perfetta in tutte le sue evoluzioni nel corso del tempo. Il ringraziamento ancora più sentito è nei confronti dei rappresentanti dell'amministrazione che qui sono ai massimi vertici e adesso mano a mano che li chiamerò sul palco. Li vedrete di persone e tutti quindi potrete prendere visione diretta delle persone che guidano l'amministrazione dal massimo dei volpiti. Naturalmente è un grazie sentito anche a tutti i membri di quella che abbiamo definito tavola rotonda che ha una funzione specifica di consiglio e di suggerimento nei confronti dell'amministrazione rappresentando da diverse parti le organizzazioni delle categorie rappresentate sul mondo della gestione, della sicurezza e della circolazione. Quindi giornata veramente molto molto importante. Vi ricordo soltanto a titolo di evidenziazione della pregnanza di questo incontro che ci vede per la prima volta tra l'altro in fisico a ragionare e a parlare insieme. Il fenomeno della sicurezza della circolazione, la motorizzazione lo sta seguendo da un numero cospicuo di anni. La prima direttiva fu la 7743, parliamo di 50 anni fa grossomodo. Di strada ne è stata fatta tantissima nel frattempo. Ci sono state delle tappe importanti come la direttiva intermedia del 96-96 che fu recepita in Italia nel 2008 ma in precedenza era nato il servizio dell'autoriparazione con la legge 122 e prendendo atto di una situazione intollerabile, revisioni arrivati a 10 anni, aveva in sé un problema quello della coincidenza tra chi fa la riparazione e chi fa la verifica periodica. L'Europa si è sforzata in molti modi di intervenire sulla risoluzione parziale quantomeno di questa problematica e quindi è uscita con una serie di direttive, l'ultima delle quali è quella di cui oggi ci stiamo interessando, la 2014-45 UE, che è una direttiva strutturata che propone sostanzialmente il quadro europeo della revisione del veicolo. Questa direttiva che è stata pubblicata in Europa nel 2014, recepita in Italia nel 2017, ha avuto un primo passo, come dicevo prima, nel 2018 con il decreto 911 attuativo, ma di fatto la ripresa dei lavori è avvenuta sotto la direzione dell'attuale direttore generale, l'ingegnere Pasquale Danzi, che è qui presente. A partire dal luglio dello scorso anno si sono avviati i lavori di preparazione, che poi hanno visto un primo epilogo nell'evento che è stato celebrato sempre da Autopromotec, anche con la nostra presenza ad Imola, lo scorso anno, e che oggi però ci vede con un bagaglio di documenti e di provvedimenti che sono stati emanati, decisamente cospicuo, perché c'è il decreto ministeriale 446, c'è il decreto attuativo del direttore generale, c'è la circolare che si riferisce agli ispettori, deve ancora essere fatta la normativa relativa alla parte veicolare, la normativa attuativa, ma esiste l'impianto, quindi diciamo che in 6-7 mesi è stato fatto veramente un lavoro enorme, di cui va dato onore e merito alla grande abnegazione con cui i dirigenti, che poi ci illustreranno un po' più nel dettaglio quello che è stato fatto, si sono prodigati. La manifestazione, per darvi una panoramica organizzativa d'insieme, si articola su tre tempi sostanzialmente, un primo tempo che dura fino alla pausa caffè, alle 11, nella quale si parlerà di veicoli, revisione veicoli, un secondo tempo nel quale si parlerà di ispettori, e quindi modalità di esercizio dell'attività degli ispettori e soprattutto di esami, con una parte esquisitamente pratica condotta dai dirigenti generali delle tre direzioni generali e territoriali oggi presenti. Purtroppo manca l'ingegner Volpe che per motivi familiari si è scusato, ma non è potuto intervenire. E infine, dalle 12.30 alle 16.30 di Targa, diciamo poi salvo variazioni che già sono insite nel fatto che siamo partiti con un po' di ritardo, ci sarà la tavola rotonda dove i membri rappresentanti della stessa tavola potranno esprimere alcune domande che rappresentano la media delle domande che ciascuno si pone, in modo da rendersi interpreti delle necessità generiche della utenza più che delle necessità delle organizzazioni di categoria che loro rappresentano, occupando quindi una posizione di parte indipendente in questa manifestazione. Quindi questo è il programma dei lavori e a questo punto quindi chiamo qui sul palco coloro che materialmente eserciteranno la parte espositiva e quindi le relazioni. Per cui prego l'ingegnere Pasquale Danzi di avvicinarsi, il direttore generale della motorizzazione civile che prende posto al centro, l'ingegnere Giorgio Callegari, direttore generale della DGT Nord-Ovest, dell'ingegnere Paolo Amoroso, direttore generale della DG Nord-Est, l'ingegnere Lorenzo Loreto, direttore della divisione 4, che attualmente si interessa della parte che vi è più vicina, perché le norme poi di attuazione di ciò che il direttore generale dispone le cura la sua divisione, con particolare riguardo alle attrezzature per la propria divisione e alla istituzione e attuazione dei nuovi gruppi di lavoro che stanno da tempo lavorando per raggiungere una configurazione che permetta di guardare al futuro nell'ottica dell'Europa, quindi organismi di parte indipendente che gestiscono il fenomeno della metodologia. Questo è il programma della prima parte della mattinata, per cui comincerei subito con il richiedere all'ingegnere Danzi di svolgere la sua relazione, che si intitola il DM446-2021, obiettivi e criteri di votazione della direttiva 2014-45 UE. Prego, ingegnere. Grazie. Chiamare relazione la chiacchierata che vorrei fare con voi è un po' troppo, ma Carlo è sempre buono e generoso nei miei confronti e quindi lo ringrazio. Io sono chiamato a introdurre argomenti di dettaglio che poi i colleghi cercheranno di focalizzare sicuramente meglio di come sarei capace di fare io e a darvi un quadro, voi ce l'avete ben chiaro, ma comunque a rappresentare un quadro di contesto dal punto di vista dell'amministrazione di quanto è accaduto in questi ultimi mesi, partendo dallo scenario che invece stabilmente vedeva le revisioni dei mezzi pesanti e praticamente da 30 anni realizzate secondo lo stesso modello operativo. I break strutturali che ci sono stati sostanzialmente sono quelli che ha sinteticamente citato Carlo Giannuzzi, l'ingegner Giannuzzi, nella sua rapida prolusione. sostanzialmente i punti chiave, quelle che sono milestones per quello che si sta facendo oggi sono la direttiva comunitaria 45, di cui si parlava, recepita nel 2014, recepita qualche anno dopo dall'amministrazione e in particolare la modifica del codice della strada operata con la finanziaria del 2019, quindi nel dicembre del 2018, con il cui provvedimento è stata inserita all'interno dell'articolo 80 del codice della strada la possibilità che la revisione dei veicoli pesanti merci non ATP e non ADR fosse svolta non solo dall'amministrazione, quindi sia in termini di centri di controllo, sia in termini di ispettori, ma potesse essere trasferita in concessione, questo è il gergo che utilizza l'articolo 80, poi sapete bene che le variazioni dell'assetto della titolarità dei poteri all'interno del paese è stata modificata, la Costituzione è stata modificata, quindi oggi la competenza è evidentemente autorizzatoria, non concessoria, ed è delle province, non è centrale del Ministero, ma che questi veicoli, oltre quelli leggeri, già oggetto di esternalizzazione, come tipicamente si chiama questa cosa, potessero vedere coinvolti anche i privati. al di là dell'accordo Stato-Regioni dell'aprile del 2019, non molto è accaduto su questo tema, fino al DL Trasporti, il DL 121 del settembre del 2021, dell'anno scorso, in cui è stata inserita la necessaria, indispensabile direi, rettifica alla norma della finanziaria che modificava l'articolo 80, che ha tirato dentro, nel pacchetto dei veicoli che potevano essere oggetto di esternalizzazione delle revisioni, ha tirato dentro rimorchi e semirimorchi. A questo punto è evidente che l'amministrazione ha dovuto, con la necessità anche di serrare i tempi sulla tematica, intervenire con la regolazione del contesto in maniera compiuta, definita per costruire ex novo la disciplina della revisione dei veicoli pesanti merci e costruire un nuovo modello quando per 30 anni, almeno 30 anni precedenti, si era lavorato in un altro modo. Quindi un obiettivo davvero arduo, davvero complesso e il cui esito è ad oggi ancora indeterminato, un modello al quale noi crediamo molto perché crediamo molto nei principi che l'hanno ispirato, che sono un principio che è un principio di fabbisogno, ovvero al di là delle scelte del legislatore che non sono mai motivate, ma sono sempre all'interno del panorama dell'interesse collettivo e dell'interesse generale dei cittadini e delle imprese e quindi al di là di quello che il legislatore ha scelto, noi oggi ci troviamo con un vecchio modello di revisione dei veicoli che oggi non ha più dei livelli di servizio, non esibisce un livello di performance, dei livelli di servizio che sono adeguati alle esigenze sia di sicurezza della collettività, sia alle esigenze di impresa delle imprese di trasporto, ovvero come ho avuto modo di raccontare anche in una serie di audizioni parlamentari con la Commissione Trasporti della Camera, noi purtroppo registriamo il fatto post pandemia che circa il 13% dei veicoli circolanti, parlo sempre, a volte non lo specificherò, ma di veicoli pesanti merci che circolano sul territorio nazionale, circa il 13% non è in regola con gli obblighi di revisione periodica. Questo che significa? Che abbiamo un accumulo del 13% dei veicoli che riescono a fare la revisione o fanno la revisione dopo la scadenza. Perché non sempre riescono a fare la revisione? Evidentemente in questo numero che è preoccupante di per sé, perché quel 13% è un 13% di veicoli che sono potenzialmente non nelle condizioni di sicurezza per la circolazione. Questo è il problema vero, reale, concreto che dal punto di vista collettivo ci preoccupa e ci ha fatto pensare che questo meccanismo di esternalizzazione dovesse essere la risposta a questo problema. Perché ho detto che non riescono o che non fanno la revisione? Perché evidentemente all'interno di questo 13% esiste pure una nicchia grande a piacere o piccola a piacere dipende dai punti di vista di soggetti che avendo la possibilità di circolare con una prenotazione di revisione di circolare sul territorio nazionale possono avere particolare fretta di sottoporre il proprio veicolo a revisione e quindi possono immaginare che la prenotazione di revisione possa costituire un plus per il fatto di non dover investire investire in sicurezza aggiungo io per mettere il veicolo nelle condizioni di circolare in sicurezza. Un fatto un piccolo episodio un collega un amico che è anche qui oggi con noi mi manda un whatsapp in cui c'era l'annuncio di vendita di un veicolo che ha bisogno di essere revisionato e il venditore che arriva al potenziale acquirente quindi alla platea dei potenziali acquirenti dice guarda questo c'ha la revisione che scade a faccio non ricordo le dati ma scade a luglio del 2022 ma stai tranquillo c'è già una prenotazione per dicembre 23 fatta da qualche parte in qualche ufficio e quindi stai a posto e sei coperto ancora per un anno e mezzo l'utilizzo strumentale e distorto della prenotazione e revisione sicuramente è una componente di questo 13% di veicoli che sfuggono con la complicità dell'amministrazione che non riesce con il modello attuale a garantire un livello di servizio che sia adeguato all'obiettivo ed è per quello che si è cominciato a pensare a un modello la prima idea evidentemente era quella di dire lo facciamo sui leggeri facciamo uguale con i pesanti immediatamente accantonata per i motivi che le motivazioni che avete letto su praticamente tutti i provvedimenti adottati dalla direzione generale per ovvi motivi il modello leggeri non poteva essere sì che semplici trasferito anche alle revisioni dei veicoli pesanti e allora si è cominciato a costruire questo puzzle si è cominciato ovviamente con il decreto ministeriale che ne costituisce la cornice che avendo la firma del ministro in qualche modo consolida e stratifica la volontà politica dell'esecutivo di andare in una certa direzione e poi tutta una serie di provvedimenti di secondo livello attuativi di questo decreto ministeriale e che recano in sé anche una serie di ulteriori disposizioni che diventano vincolanti per la migliore concezione e comprensione del ruolo di ciascuno di noi all'interno del nuovo modello ruolo che stiamo cercando di comporre con la volontà di rendere esplicito il motivo per cui un attore è in campo e qual è il contributo e l'apporto che questo attore può dare all'intero complesso del modello in costruzione dobbiamo essere bravi tutti quando si costruisce un modello nuovo che non può partire dall'esistente parte dall'esistente in parte perché l'amministrazione negli anni aveva pensato che non fosse indispensabile che le revisioni venissero effettuate presso i propri centri di controllo ma aveva pensato che anche rivolgersi al mercato in maniera controllata in maniera mirata con autorizzazioni specifiche su officine la cosa evidentemente nasce per i grossi gestori di trasporto pubblico locale era impensabile che l'Atac parlo di Atac perché vivo a Roma che l'Atac portasse i mezzi ai capannoni di controllo della motorizzazione quindi da quella esigenza primaria di andare presso l'utente con il meccanismo della 870 che ben conoscete che consente all'amministrazione di fare le proprie attività fuori già questa esternalizzazione sotto certi aspetti si era operata ma era allo stato assolutamente latente perché poi l'operazione indipendentemente dal fatto di venire materialmente effettuata presso un centro non fuori dal perimetro stretto dal perimetro fisico dell'amministrazione indipendentemente da questo continuava continua oggi a essere fatta dall'amministrazione stiamo costruendo un modello del tutto diverso del tutto diverso su un mercato che ho fatto estrarre i numeri a ieri conta complessivamente 730.000 veicoli sono 606.000 veicoli nel senso di trattori o veicoli autonomi e 123.000 vuoto per pieno rimorchi o semirimorchi quindi parliamo di 730.000 veicoli che entreranno in questo nuovo modello quindi non è un mercato particolarmente grosso e particolarmente ricco come può essere il mercato delle revisioni dei leggeri che prevede circa 15 milioni di veicoli revisionati ogni anno però è di estrema rilevanza quindi se volete è un piccolo esercizio che noi riusciamo a fare su questi veicoli che noi abbiamo il dovere di fare su questi veicoli e abbiamo il dovere di portarlo in pista in tempi ragionevolmente brevi per garantire ai cittadini e alle imprese un livello di servizio più elevato che porti quel 13% a zero l'obiettivo è quello che nell'arco di un anno un anno e mezzo massimo anche il ministro ieri si è impegnato su questi tempi noi riusciamo a portare quel 13% a zero e riusciamo effettivamente a fare in modo che il veicolo sia revisionato prima della scadenza della revisione questo è il nostro obiettivo per questo dobbiamo lavorare sul merito specifico dei provvedimenti emanati e su quelli che andranno ancora emanati di cui sostanzialmente che hanno una doppia natura l'una è la disciplina complessiva ed esaustiva dei centri di controllo ad oggi abbiamo parlato più di ispettori che di centri di controllo e su questo abbiamo bisogno del vostro aiuto chiederemo il vostro aiuto accetteremo il vostro contributo ovviamente come sapete non siamo un'amministrazione che scrive sotto dettatura noi ascolteremo il contributo di tutti questa è una tipica circostanza in cui gli interessi delle diversi parti coinvolte non sempre sono convergenti anzi sono spesso divergenti cercheremo di essere la giusta sintesi sull'altare dell'interesse collettivo questa è la nostra ambizione quindi centri di controllo regolazione gestione dei centri di controllo disciplina sanzionatoria attività di vigilanza sui centri di controllo da parte delle direzioni generali territoriali e quant'altro che riguarda i centri di controllo e l'altro problema fondamentale non problema l'altro elemento fondamentale l'altra variabile fondamentale di questo modello la tariffa la tariffa normalmente è quella che decide se un modello funziona o no se è redditizio far quel tipo di attività o no quindi la fissazione della tariffa in cui peraltro non siamo soli perché abbiamo un altro ministero competente che assieme a noi dovrà definire questo sarà un momento cruciale e quindi anche in questo ambito io vi invito sinceramente a non far mancare all'amministrazione il vostro contributo di riflessione di idee e di esperienza perché anche sulla fissazione della tariffa indipendentemente dalla copertura degli effettivi costi ma proprio in termini di modello perché sapete bene che la tariffa ha dentro tante cose che poi come vi dicevo daranno la possibilità al modello di decollare o meno quindi rispetto a questo vi prego di non far mancare sono sicuro che lo farete all'amministrazione il vostro costruttivo contributo vi ringrazio sono andato un po' fuori rispetto ai tempi che mi erano stati dati anche se avevo l'ambizione di occupare meno del quarto d'ora a me dedicato restituisco la parola all'amico Carlo grazie grazie a te quindi ringraziamo del primo intervento l'ingegnere Danzi che è stato molto chiaro e molto esplicito nelle difficoltà che l'amministrazione ha dovuto affrontare in quelle che deve ancora risolvere e credo che tutti prendano con particolare entusiasmo e favore e fa parte proprio dello spirito di ripartenza che oggi abbiamo cercato di istituire anche con la presenza in fisico che ce l'avremmo quasi dimenticata praticamente anche senza mascherine l'apertura nei confronti delle parti sociali e degli rappresentanti delle varie categorie che partecipano al processo di formazione della sicurezza della circolazione per fare in modo che si avvii quella fase successiva che è quella che è prelusiva alle norme attuative per la parte veicoli che ancora manca e deve essere fatta quindi lo ringraziamo per tutto questo e chiamiamo a parlare l'ingegnere Giorgio Gallegari direttore che parla dei requisiti di qualificazione dei centri di controllo e della relativa vigilanza grazie buongiorno a tutti un ringraziamento anche da parte mia agli organizzatori di questa manifestazione un ringraziamento a Carlo che è sempre prodico in queste iniziative quindi si sente ancora come giustamente parte dell'amministrazione e quindi lo ringraziamo per tutta questa attività che sta svolgendo un ringraziamento anche a tutti voi a tutti voi che alcuni di voi hanno partecipato all'ultimo incontro che abbiamo avuto ad Imola mi sembra di ricordare il 16 o 15 ottobre dello scorso anno ecco a Imola avevamo messo le basi per qualcosa sì è vero erano uscite qualche circolare c'era stato un momento di stasi che dal 2018 come ha riferito Carlo l'ingegner Giannuzzi c'era stata l'emissione dell'ultimo decreto arrivavamo ad Imola a ottobre 2021 con l'emissione di una circolare da parte del nostro direttore generale l'ingegner Pasquale Danzi nel 13 settembre del 2021 relativa ai centri a 70 ma quello era un primo passo che noi avevamo fatto come gruppo di lavoro insieme all'ingegner Pasquale Danzi proprio per arrivare a emettere tutti i provvedimenti successivi da allora come è stato detto di provvedimenti ne sono stati emessi ne sono stati emessi tanti abbiamo lavorato sodo e quindi ritengo che l'amministrazione abbia fatto il proprio lavoro poi il giudizio lo darà il mercato il giudizio lo darete voi noi sicuramente abbiamo messo l'impegno abbiamo cercato di portare in Italia dei modelli che la direttiva comunitaria ci costringeva anche ad adoperare e proprio per questo e anche relativamente ad alcune problematiche che sono state sollevate giustamente o meno all'interno di questi decreti vorrei ricordare proprio alcuni passaggi fondamentali da cui siamo partiti per portare avanti questo lavoro e che quindi non dobbiamo mai dimenticarci perché sono stati proprio i nostri fari che ci hanno illuminato in questo nostro cammino vorrei partire proprio dalla direttiva comunitaria 2014-45 che si poneva si pone si poneva come obiettivo la sicurezza nell'ambito della circolazione stradale in linea generale ma fissava i propri obiettivi soprattutto nella circolazione dei veicoli sicuri poi c'è una parte anche relativa ai famosi ispettori che andremo a vedere nell'intervento successivo ma rimaniamo ai veicoli quindi l'obiettivo della commissione europea era quello proprio dell'accertamento durante la circolazione delle condizioni di sicurezza dei veicoli in modo particolare veniva detto che per aumentare la sicurezza stradale bisogna aumentare i controlli tecnici i controlli tecnici cosiddetti periodici dalla direttiva che sono quelli che normalmente andiamo a effettuare con le cadenze previste e poi i controlli tecnici supplementari relativo al parco circolante commerciale quelli che da tempo stiamo facendo su strada durante l'effettivo utilizzo del nostro veicolo nel rispetto della direttiva 47 questa volta del 2014 e quindi l'obiettivo era quello di creare dei centri di controllo sotto la supervisione dell'autorità pubblica lo dice proprio la commissione europea in modo tale che ogni stato membro possa organizzare questi controlli sempre sotto il rispetto diciamo e la prerogativa dell'autorità pubblica quindi la possibilità di introdurre che poi è stata introdotta come ha detto l'ingegner Danzi attraverso la prima la legge di bilancio e poi successivamente con i provvedimenti successivi di settembre 2021 la possibilità di affidare questi controlli tecnici sotto la supervisione dell'organo cosiddetto di supervisione anche a soggetti privati è logico che la commissione determinava già degli indirizzi su come dovevano essere date queste concessioni o autorizzazioni ai privati in modo particolare dava alcune indicazioni agli stati membri sulla separazione dell'attività sull'autorizzazione ad effettuare i controlli ai privati però aumentando il livello di cosiddetto di obiettività sulla base di questi principi quindi noi ci siamo mossi e il primo documento che è stato emesso come ricordava l'ingegnere è proprio il DM446 DM446 che ne avevamo parlato preliminarmente come vi dicevo prima a Dimola ma che è stato emesso successivamente il 23 novembre del 2021 nella parte qui riservata a me adesso relativa ai veicoli come ha detto l'ingegnere Carlo Gialluzzi andrò a esaminare di questo decreto alcuni aspetti perché il tempo non mi consente di andare nel dettaglio alcuni aspetti che hanno creato anche alcune problematiche durante la lettura innanzitutto sono state definite l'autorità competente e quindi sulla base della direttiva comunitaria l'autorità competente è la direzione generale motorizzazione diretta dall'ingegnere Danzi gli organismi di supervisione che sono le quattro direzioni generali territoriali e poi è stato definito l'operatore autorizzato colui che andrà a svolgere per conto dell'amministrazione questa attività nell'articolo 2 è stato chiarito espressamente che soprattutto per quanto riguarda le autorizzazioni ci si doveva riferire solo ed esclusivamente alle autorizzazioni che sarebbero state rilasciate ai veicoli pesanti quindi le prime interpretazioni che si potevano applicare al modello dei veicoli leggeri già attualmente e da tempo in Italia non era corretta quindi noi dal punto di vista veicolare volevamo andare proprio è logico che dal punto di vista gli ispettori andremo a vedere per tutte le categorie di veicoli mentre per quanto riguarda i veicoli ci rimettiamo solo ed esclusivamente ai veicoli pesanti quindi l'articolo 2 dopo aver precisato queste situazioni prevede per la prima volta l'istituzione di un registro degli operatori presso il dipartimento dovrà essere istituito un registro di tutti gli operatori professionali che andranno a effettuare questo tipo di attività tutto il registro di autorizzazione degli ispettori che lo andremo a vedere successivamente compreso tutte le commissioni per poter svolgere l'attività poi demandava a decreti attuativi successivi l'implementazione di determinate norme come ricordava l'ingegner Danzi mancano ancora l'appello alcune norme a cui l'amministrazione sta lavorando e come ha ripetutamente riferito anche lui siamo disponibili proprio a recepire eventuali suggerimenti in modo particolare per la definizione quello che è previsto al comma 2 punto A ovvero la definizione delle caratteristiche della struttura organizzativa e del personale per gli operatori tecnici cioè per gli operatori che verranno non escluso che l'altra problematica estremamente importante che determinerà sicuramente la fruibilità o meno di questo servizio è quello che dovremo definire insieme al MEF ovvero la definizione della tariffa ma senza escludere questi due provvedimenti che sono importantissimi la norma praticamente è operativa la norma è operativa e all'articolo 4 viene chiarito che l'autorizzazione a questi operatori viene rilasciato dalle amministrazioni provinciali viene rilasciato dalle amministrazioni provinciali col supporto del personale delle direzioni generali territoriali e degli uffici provinciali della motorizzazione per quanto riguarda il controllo tecnico sui locali per quanto riguarda il controllo tecnico sull'attrezzatura e al coma 6 di questo articolo 4 è stato introdotto una cosa importantissima il principio di sussiderietà ovvero qualora le amministrazioni provinciali non fossero in grado di procedere a questa attività col principio di sussiderietà altri enti potrebbero intervenire enti sovraordinati l'articolo 7 invece ci riporta i requisiti professionali ed economici che devono avere gli operatori autorizzati senza entrare nel merito però al coma 6 è proprio quello di andare a verificare per gli operatori istanti che devono dimostrare di possedere una struttura organizzativa e una dotazione di personale idoneo a svolgere le funzioni di verifica e della prova dei veicoli pesanti anche in riferimento a quel famoso discorso che le associazioni di categoria auspicano da tempo soprattutto sul controllo di quei dispositivi che anche all'interno dei veicoli leggeri non è più possibile controllare ma dobbiamo fidarci di determinate situazioni quindi la famosa certificazione che è una famosa circolare da allora l'architetto Vitelli e l'ingegner Fumero avevano già da tempo fa introdotta e poi momentaneamente sospesa dovremmo andare a vedere anche questa parte che è una parte estremamente importante che credo che ci sia stata e c'è stata anche sollecitata dalle associazioni di categoria l'articolo 8 invece pone il concetto dell'imparzialità e dell'obiettività degli operatori autorizzati qui l'amministrazione poteva fare diverse scelte per assicurare l'imparzialità e l'obiettività dell'operazione tecnica vera e propria è stata scelta la certificazione ovvero è stato scelto che l'impresa deve essere certificata ma capiamo che le imprese avranno dei tempi abbastanza lunghi per essere certificati quindi in questa prima fase sarà fino al primo gennaio del 2023 le imprese che presenteranno istanza di certificazione potranno essere amesse alla fase successiva anche se la certificazione non l'hanno materialmente ottenuta c'è il principio poi dell'effettuazione dei controlli tecnici in locali destinati esclusivamente a tale attività e separati eventualmente dall'attività di autoriparazione e poi c'è un altro principio che abbiamo valutato di introdurre valutando che giornalmente un operatore un ispettore può come limite massimo revisionare 24 veicoli è un criterio che abbiamo scelto potremmo avere sbagliato numero non lo so però è dato da una serie di accorgimenti e una serie di esperienze che abbiamo fatto sul campo l'articolo 9 dotazioni tecniche minime per gli operatori autorizzati ecco questa è una parte importantissima che è stata anche ieri in commissione trasporti sollevata al signor ministro soprattutto per quanto riguarda una dimensione si trattava quindi di andare a individuare all'interno di tutta questa nuova normativa le caratteristiche dei locali che dovevano ospitare che dovranno ospitare questa operazione di revisione molte di queste dimensioni sono state ripetute rispetto alle dimensioni dei veicoli leggeri o leggermente aumentate la larghezza lato ingresso pari a 6 metri esiste già nei veicoli leggeri e quindi è stata confermata ma non era determinante per il nostro conteggio mentre invece è stata aumentata la dimensione relativa all'ingresso e all'uscita della porta rispetto ai veicoli leggeri d'altronde le dimensioni dei veicoli pesanti sono completamente diverse rispetto ai veicoli leggeri e se nei veicoli leggeri avevamo una larghezza di 2,50 e un'altezza di 3,50 per questi veicoli pesanti abbiamo ritenuto di portare a 4,50 sia la larghezza che l'altezza ma se andiamo a pensare che un veicolo di queste dimensioni arriva in condizioni normali e non in condizioni di eccezionalità a 4,30 abbiamo un franco di 20 cm quindi non è che abbiamo esagerato da questo punto di vista per quanto riguarda poi la superficie dedicata alla la linea di revisione vera e proprio è stata indicata a 250 metri quadrati e una cosa importante che non avevamo previsto nelle revisioni dei veicoli leggeri e che ha determinato in tutti questi anni delle problematiche dal punto di vista anche di ricorsi altari ricorsi giudiziari l'altezza interna di questi locali altezza interna che abbiamo distinta secondo se si utilizza il ponte sollevatore o se si utilizza una fossa di ispezione anche qui queste dimensioni sono ragionevoli perché abbiamo un franco limitatissimo dovuto proprio al fatto che se utilizziamo il ponte dobbiamo utilizzarlo come voi ben sapete a 1,80 m di altezza quindi la parte rimanente dei 4,30 diciamo di un veicolo di questo tipo è quello che ci serve ma la dimensione che ha suscitato più problematiche è quella dei 600 metri quadrati questo calcolo dei 600 metri quadrati non è stato un numero che il gruppo di lavoro ha buttato lì è stato un numero che abbiamo calcolato anche in rapporto a determinate situazioni prima di tutto un rapporto tra i veicoli leggeri se nei veicoli leggeri noi chiediamo una superficie di 120 metri quadrati e se noi andiamo ad analizzare diciamo la superficie occupata da un veicolo leggero vediamo che il fattore un veicolo leggero può essere sugli 8 metri quadrati indicativamente noi vediamo che ha un fattore di moltiplicazione pari a 15 nel nostro caso se noi andiamo a analizzare le dimensioni di un veicolo pesante dove adesso con le nuove normative e con la nuova riforma del codice della strada possiamo arrivare a una superficie in metri quadrati anche di 50 metri quadrati se noi l'avessimo rapportato a questo fattore 15 avremmo dovuto stabilire una dimensione pari a 750 metri quadrati l'abbiamo stabilita pari a 600 abbiamo sbagliato forse questa era l'indicazione per quanto riguarda le dotazioni minime ma questo nostro in questa nostra scelta di questa dimensione sono entrati in vigore altri parametri perché se noi andiamo a vedere successivamente sempre all'articolo 9 vedremo che tra la documentazione necessaria c'è anche la famosa autocertificazione che deve svolgere che deve effettuare il datore di lavoro l'operatore per quanto riguarda il rispetto dell'81 e il famoso DVR ecco in questo caso particolare noi ci siamo posti anche questa attenzione perché dobbiamo far lavorare i nostri ispettori sia dipendenti che autonomi a seconda dei casi in condizioni di sicurezza anche perché altrimenti eventuali interventi da parte di enti sovraordinati delle ASLUT possono andare a incidere anche su questo discorso sono già fuori di tre minuti sono già fuori di tre minuti sono fuori sono fuori allora cerco di andare velocemente scusate ma era estremamente importante cerco di saltare la vigilanza da chi verrà effettuata la vigilanza sui centri di controllo la vigilanza sui centri di controllo verrà fatta dagli organismi di supervisione attraverso un monitoraggio attraverso la verifica tecnica attraverso anche qui la verifica a campione e poi in funzione di tutte queste verifiche secondo l'articolo 14 ma anche secondo l'articolo 20 e 22 del decreto dirigenziale 40 firma dell'ingegner Pasquale Danzi abbiamo introdotto quello che le associazioni hanno sempre auspicato per i veicoli leggeri ovvero il principio della gradualità quindi partendo dalla difida procedendo poi eventualmente alla sospensione e arrivando infine alla revoga come estrema razio è logico che tutti questi provvedimenti possono essere ricorribili possono essere ricorribili attraverso ricorso gerarchico oppure attraverso ricorso come esplicifica l'articolo 20 del decreto dirigenziale 40 o ricorso giurisdizionale altare entro 60 giorni o ricorso straordinario al presidente della repubblica entro 120 giorni all'interno di questa situazione ci sono anche le responsabilità amministrativi del settore del centro di controllo non ne parlo adesso anche perché questa sarà una materia oggetto di una successiva circolare tant'è vero che la circolare dell'ingegneri d'anzi del 2 maggio all'ultimo capoverso specificava appunto che con provvedimento specifico verranno date le disposizioni sia per quanto riguarda i provvedimenti nei confronti degli ispettori sia i provvedimenti nei confronti del titolare dell'azienda grazie grazie mi ha dato da dire sono andato lungo quindi ringraziamo l'ingegneri e le cari ci rendiamo conto che nonostante la compressione dei tempi la materia è estremamente vasta avrebbe bisogno di molto più tempo ma d'altra parte questa manifestazione ha lo scopo di dare una prima proiezione del grande lavoro fatto in questo periodo rimandando poi ad un futuro abbastanza prossimo la definizione di tutti i provvedimenti che sono stati preannunciati perché ho già detto prima e ripeto adesso ci sono molte cose che devono essere fatte e che devono essere portate in evidenza l'ultima che ha citato l'ingegner Callegari vale a dire la vigilanza e quindi le sanzioni da irrogare tanto alla parte datoriale quindi al centro di controllo quanto all'ispettore di revisione sarà oggetto come ci ha annunciato di una circolare specifica che sarà tanto più efficace quanto più sarà materialmente applicata perché il sistema sanzionatorio è l'unico elemento effettivo per regolare quel principio di indipendenza se non addirittura di terzi età di cui l'amministrazione dispone stando l'attuale sistema legislativo e quindi ci auguriamo e siamo sicuri anzi che questo sforzo sarà fatto nei prossimi giorni passiamo adesso al terzo argomento all'ordine del giorno che si riferisce alla revisione dei veicoli pesanti e leggeri 108 e 70 macchine agricole ed operatrici che tocca all'ingegnere Lorenzo Loreto buongiorno a tutti ringrazio della vostra presenza ringrazio gli organizzatori di questa manifestazione che hanno reso in qualche modo possibile questo incontro con gli operatori del settore che ha permesso all'amministrazione di poter esprimere in maniera diciamo quasi conviviale quelle che sono le norme che sono state emanate e quelle che sono in fase di emanazione io come responsabile della divisione 4 della direzione generale per la motorizzazione insieme ai collaboratori devo dire la verità un numero molto esiguo sostanzialmente abbiamo un ingegnere e diversi 4-5 amministrativi abbiamo preso già dal 2017 in considerazione l'ipotesi di dover realizzare quanto prima quelle che erano le disposizioni previste dal decreto ministeriale 214 del 2017 che ha recepito la direttiva 2014-45 una direttiva europea che riguarda la nuova organizzazione per quanto riguarda la revisione dei veicoli quindi da quella data abbiamo iniziato ad approfondire molti di quegli aspetti che richiedevano un allineamento fra le norme europee e le norme italiane oggi mi soffermerò in particolare sulla parte sull'allegato 3 del decreto ministeriale 214 che riguarda appunto le attrezzature e la composizione delle officine dei centri di controllo che siano sia di natura privatistica ma anche quelle della pubblica amministrazione io riallacciando a quanto diceva poco fa l'ingegner Callegari se analizziamo un attimo il primo punto dell'allegato 3 del decreto ministeriale 214 a un certo punto c'è scritto e leggo testualmente che il luogo dove verranno effettuate le revisioni deve essere tale una struttura di controllo con uno spazio adeguato per la valutazione dei veicoli e che soddisfi i necessari requisiti sanitari e di sicurezza queste quattro parole in sostanza hanno determinato quel valore mitico dei 600 metri quadri perché come diceva appunto l'ingegner Callegari è necessario non solo svolgere attività di revisione ma che questa attività di revisione venga svolta anche nella maniera più sicura sia per l'operatore ma anche per coloro che all'interno di questa struttura sono impegnati nelle varie verifiche che il veicolo necessita quindi quel numero fatidico dei 600 metri quadri è il frutto di questa disposizione ministeriale e l'ingegner ha spiegato perché è venuto fuori quel numero altro aspetto importante che l'allegato 3 del decreto ministeriale 214 è l'adeguamento delle attrezzature se facciamo una verifica di questo allegato 3 noi vediamo che il numero delle attrezzature è diventato addirittura quasi quadruplicato siamo arrivati a 16 componenti 16 dispositivi che servono per effettuare la revisione dei veicoli sia leggeri che pesanti e quindi l'obiettivo della divisione 4 è stato quello di istituire dei gruppi di lavoro a cui hanno partecipato molti di voi che sono presenti in questa aula con i quali sono stati condivisi non solo quegli argomenti di natura tecnica che potesse in qualche modo essere utilizzato dal punto di vista sia operativo nell'assorgimento della revisione ma anche che fosse compatibile con quelle che erano le esigenze e le direttive emanate dall'Unione Europea alcuni elementi alcuni di questi dispositivi noi con l'attuale normativa italiana non le avevamo mai prese in considerazione parla ad esempio dell'OBD che è uno strumento che è diventato diciamo obbligatoria stando a questa diciamo l'allegato 3 del decreto 214 ed un gruppo di lavoro si è prodigato nel predisporre un capitolato tecnico che in qualche modo poi fosse oggetto di approvazione da parte dell'amministrazione che poi successivamente diventerà uno fra i tanti strumenti da utilizzare durante lo svolgimento della revisione altro elemento importante è stata la nuova definizione delle piastre provagiochi il gruppo di lavoro ha effettuato ha presentato un quesito alla commissione europea perché gli operatori del settore evidentemente sensibilizzavano sensibilizzavano diciamo anzi diciamo che i costruttori sensibilizzavano il gruppo di lavoro perché la direttiva e il decreto prevedeva che l'escursione massima fosse di 95 mm il che significa che stando ai costruttori delle attrezzature diventava quasi impossibile soprattutto se quel banco prova piastra venisse inserito all'interno di un ponte sollevatore che significava rivedere un po' tutta l'architettura dei ponti sollevatori per cui è stato fatto un quesito alla commissione che devo dire ahimè non c'è stato un adeguato riscontro nel senso che nonostante numerosi solleciti non abbiamo ricevuto riscontro per cui il gruppo di lavoro ha deciso in accordo con quelli che erano diciamo le caratteristiche tecniche e le indicazioni dei costruttori di ritenere di soddisfare quel requisito dei 95 mm considerando diciamo l'andata e il ritorno quindi 47 mm per l'andata e 47 mm in modo tale da poter mantenere strutturalmente i ponti sollevatori esattamente come sono quelli attuali e questo è stato un'altra delle attività che il gruppo di lavoro ha presentato diciamo che abbiamo come obiettivo quello del maggio del 2023 che è la data ultima prevista dalla direttiva per rendere assolutamente compatibile conforme le nostre attrezzature con quelle con le indicazioni previste dalla commissione europea e credo che come diciamo come tempistica siamo quasi diciamo sul sul traguardo siamo quasi in dirittura di arrivo perché tutti i capitolati tecnici grossomodo si stanno chiudendo è rimasto ancora un ultimo aspetto che è quello di rendere i banchi prova-frene per veicoli pesanti compatibili con l'MCTC-Net un sistema che dà garanzie per quanto riguarda l'esito delle prove e i valori rilevati durante la prova di frenatura e siamo ottimisti nel ritenere che anche questa parte venga portata a termine dai gruppi di lavoro e che quindi entro maggio del 2003 l'amministrazione sia stata in grado di rispettare quelle che erano le disposizioni previste dal decreto 214 altro aspetto importante sempre di cui la divisione 4 si è occupato è quella della gestione delle revisione delle macchine agricole purtroppo devo dire e devo ammettere che nonostante ci siano 4 anni di lavoro dietro la parte relativa alle modalità di revisione delle macchine agricole e nonostante ci siano stati già diversi rinnovi diverse proroghe io registro il fatto che l'amministrazione ha fatto tutto ciò che era possibile fare però dal momento che questo decreto previsto dal codice della strada è un decreto interministeriale quindi richiede necessariamente la firma di due ministeri il nostro ministero ovviamente con leggi del controllo e le indicazioni le direttive del direttore generale ha portato a termine tutta la parte relativa alle modalità di svolgimento delle prove per quanto riguarda le macchine agricole purtroppo il decreto è stato inviato al diciamo al ministero delle politiche agricole e forestali e ancora oggi non abbiamo avuto contezza di quello che è il ritorno di questo decreto lo scopo è diciamo l'elemento più critico nello svolgimento delle revisioni delle macchine agricole è il fatto che contestualmente così dice l'articolo 111 del codice della strada contestualmente la revisione della macchina agricola deve necessariamente riguardare sia la parte della sicurezza sui luoghi di lavoro essendo una macchina agricola una macchina dedicata al lavoro quindi all'interno dei campi quindi quando non circola su strada pubblica è uno strumento di lavoro e quindi è soggetto a tutte le disposizioni previste dal decreto legislativo 81 cioè quelle della sicurezza sui luoghi di lavoro quindi la revisione secondo il legislatore quindi secondo la modifica dell'articolo 111 del codice della strada ha come finalità l'idoneità la verifica dell'idoneità dal punto di vista della circolazione stradale ma anche dal punto di vista dell'utilizzo di quello dispositivo come strumento di lavoro e questo ha implicato per oltre 4 anni uno studio continuo con l'INAIL che è la parte delegata alla sicurezza sui luoghi di lavoro con il ministero delle politiche agricole con i nostri funzionari ed è stato già elaborato quindi sottoscritto da tutti i componenti del gruppo di lavoro è stato già sottoscritto un allegato tecnico che prevede esattamente come verrà svolta la revisione delle macchine agricole sia dal punto di vista della sicurezza sui luoghi di lavoro sia dal punto di vista della circolazione stradale purtroppo manca quest'ultimo tassello e ci auguriamo che quanto prima venga in qualche modo sbloccata questa situazione anche perché dal punto di vista lato sicurezza sui luoghi di lavoro è necessario emanare tutta una serie di norme che riguarderanno ad esempio l'ispettore dal punto di vista della sicurezza del lavoro quale caratteristica deve avere dal punto di vista della circolazione stradale abbiamo già definito con i decreti di cui si parlava poco fa qual è il percorso formativo dell'ispettore quali sono i vari passaggi come verrà svolto l'esame qual è alla fine l'inquadramento dell'ispettore quindi verrà iscritto nel registro unico e quindi potrà operare dal punto di vista della sicurezza del lavoro questo percorso ancora non è stato ben delineato e quindi in mio modesto parere è questo che probabilmente questa parte relativa alla revisione delle macchine agricole sarà ancora molto lunga perché effettivamente manca tutta questa parte normativa che ripeto è fondamentale per stabilire criteri principi e criteri e modalità di formazione dell'ispettore noi avevamo proposto anche per cercare di garantire il minimo della sicurezza stradale avevamo anche proposto in qualche modo di scindere le due attività quindi circolazione stradale e quindi effettuare una revisione con i principi e con i criteri stabiliti anche dalla direttiva europea dall'altra parte che riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro ad oggi questa nostra proposta non sembra sia stata accettata e quindi rimane questo aspetto ancora incompiuto della modalità di svolgimento delle revisione delle macchine agricole ultimo aspetto riguarda un po' quello che sarà l'architettura delle officine che operano attualmente in regime di leggi 8 e 70 l'ultima disposizione del direttore generale ha in qualche modo chiarito questo aspetto e sostanzialmente le imprese che oggi operano in regime di 8 e 70 potranno in un regime transitorio poter operare ma a un certo punto devono adeguarsi e quell'adeguamento prevede che siano esattamente strutturate così come le imprese che i centri di controllo che svolgeranno la revisione ai sensi dell'articolo 80 quale sarà il futuro di queste officine che operano in regime di 8 e 70 presumibilmente rimarrà la parte relativa all'attività residuale che rimane nei compiti della motorizzazione cioè potrebbero continuare ad operare per lo svolgimento delle revisioni che riguardano gli autobus e quei veicoli non previsti nel decreto 4 e 46 io penso di essere stato sufficientemente diciamo preciso mancano 15 secondi per cui chiudo qui la mia relazione per dare spazio al resto della commissione vi ringrazio grazie anche all'ingegner Loreto breve commento del presentatore in ordine al fatto che la direzione sta anche mi risulta lavorando alla emanazione del decreto ministeriale trasporti che è equivalente all'IM 93 del 2017 che si riferisce alla definizione dei criteri di esercizio degli organismi di parte terza che debbono esercitare l'attività metrologica sui sull'attezzatura per le proprie revisioni che è un punto focale della sicurezza della circolazione perché una strumentazione che non sia metodologicamente corretta come si dice da i numeri quindi passiamo adesso alla esposizione dell'ingegner Mario Giampiero Cavese l'aggiornamento della normativa sul controllo strumentale secondo la direttiva 2014-45 che appunto consonante con quello che ho appena finito di dire perché lì si parla proprio di metrologia vieni Giampiero ci vuole il microfono a gelato ringrazio ringrazio appunto l'organizzazione per adesso arriva il microfono se ricordi anche per gli altri mi sentite? ok ringrazio appunto tutta l'organizzazione io sono l'unico funzionario della divisione 4 in servizio che diceva l'oreto che sono entrato appunto nell'amministrazione da due anni a questa parte perché è entrato con il concorso di 148 ingegneri diciamo per quanto riguarda il ringrazio anche tutta l'organizzazione per aver acceso un focus sui gruppi di lavoro che è un'attività molto importante che stiamo portando avanti da marzo del 2021 attività che purtroppo si è bloccata per un periodo dal 2017 al 2021 molti di voi presenti fanno parte del gruppo di lavoro quindi ho avuto modo di conoscerli personalmente e ringrazio tutti per il contributo che state apportando molto professionale molto tecnico e sia anche le associazioni tutti i componenti presenti cercherò di essere molto breve perché in 14 minuti non riuscirò a coprire perché per lanciare questo focus che è veramente una fotografia della situazione attuale dei gruppi di lavoro considerando appunto la ripartenza che è avvenuta da un breve periodo quindi la storia dei gruppi di lavoro nasce nel 2013 con l'introduzione del attualmente con il decreto del direttore generale del 2021 di febbraio è stato riattivato il gruppo di lavoro attrezzature appunto con finalità consultiva studio consulenza e proposte nei confronti dell'amministrazione il gruppo di lavoro in oggetto è composto da membri dell'amministrazione in questo caso funzionari della divisione 4 e del CESPRAD rappresentanti dei costruttori associazioni del settore enti di ricerca ed esperti nominati dall'amministrazione i gruppi di lavoro si compongono sostanzialmente da sette sottogruppi che sono metodologia frenatura inquinamento ponte sollevatori prova giochi prova fari fonometro e l'ultimo gruppo MCTC net2 per i veicoli pesanti appunto che richiamavano in genere l'orito in precedenza l'emanazione della direttiva 2014 45 è recepita in Italia con il DM 2014 che voi ben sapete ha acceso l'esigenza di istituire gruppi di lavoro per dare attuazione alle modifiche che la direttiva stessa ha introdotto nel settore delle revisioni sia in riferimento alle attrezzature che ai soggetti che seguono le virifie periodiche delle stesse in ambito le attrezzature è stato introdotto l'attrezzatura OBD di cui in genere l'orito parlava precedentemente e apportate modifiche sostanziali al provagiochi nel 2013 è stato istituito il primo gruppo di lavoro appunto il quale ha avuto un'interruzione nel 2017 per poi riprendere i lavori appunto nel marzo 2000-2021 alla ripresa delle attività è stato molto utile il lavoro precedentemente svolto dal gruppo di lavoro e purtroppo interrotto nel 2017 quindi il primo step è stato quello di riprendere i lavori interrotti nel 2017 da marzo a dicembre 2021 la filosofia è stata quella di revisionare in maniera critica in funzione appunto della nuova tecnologia del mercato e della normativa i capitolati in modo da avere un contributo importante da parte dei colleghi l'ingegnere Calamani l'ingegnere pila del CESPRAD da gennaio 2022 purtroppo abbiamo avuto una situazione molto condigenziale nel senso che il pensionamento di queste stesse persone hanno portato a modificare l'approccio appunto che si stava seguendo ossia da un approccio parallelo trasversale su tutti i fronti dei gruppi di lavoro abbiamo stabilito di muoverci andando per priorità ossia la priorità importante è relativa all'immanazione del capitolato tecnico per l'OBD per il provagiochi e per l'MCTC Net2 per i pesanti il cui risultato impatta rispettivamente sulla tempi di attuazione del DM214 e sul DM446 del 2021 questa è la situazione diciamo che abbiamo ereditato e che stiamo portando avanti adesso farò una breve panoramica sulla situazione attuale dello stato dei lavori dei gruppi di lavoro partendo dal gruppo di lavoro frenatura che ha lo scopo dell'aggiornamento della normativa riguardante tutte le tipologie dei banchi prova freni per i controlli tecnici sull'efficienza frenante degli impianti di frenatura di tutte le categorie dei veicoli soggetti alla revisione periodica come dicevamo precedentemente siamo partiti da un capitolato congelato nel 2017 quindi il gruppo di lavoro ha condiviso e rielaborato i concetti contenuti nel capitolato e necessita un'ulteriore prova per poter chiudere il discorso del gruppo di lavoro in quanto occorre definire una procedura per consentire di valutare l'efficienza frenante con forze estrapolate da veicoli non a pieno carico questo sarà indispensabile nei prossimi periodi nei prossimi mesi programmare una riunione un'inseduta di prova che è stata già prestabilita già definita per eseguire delle prove sperimentali in merito a questa tematica per quanto riguarda il gruppo di lavoro inquinamento che tratta dell'aggiornamento della normativa che disciplina le attrezzature per la misurazione dell'inquinamento atmosferico prodotto dai motori a combustione interna e spontanea comandata e spontanea il capitolato dell'attrezzatura OBD introdotto appunto dalla direttiva 2014-45 è stato approvato dal sottogruppo di lavoro quindi recentemente è stato approvato il capitolato quindi siamo pronti per trasferire al direttore generale il capitolato lo stesso per poi emanare le dovute considerazioni sono stati implementati sull'OBD anche dei protocolli che consentiranno la raccolta di dati relativi alle emissioni questo riferimento al regolamento europeo 392 del 2021 quindi siamo in qualche modo impostando un'attrezzatura che riuscirà garantirà anche darà risposta al regolamento attuativo l'analizzatore di gas per quanto riguarda l'inquinamento ovviamente abbiamo tre focus OBD analizzatore gas di scarico e opacimetro per l'analizzatore gas di scarico che è normato a livello europeo dalla direttiva MID pertanto nel capitolato in corso di esecuzione definizione le caratteristiche dell'attrezzatura sono state uniformate con le relative della direttiva MID la quale è stata recepita dal MISE quindi in occasione dei gruppi di lavoro sono stati invitati anche i colleghi funzionali del MISE con i direttori di divisione per apportare un punto in sinergia di un contributo importante sia da parte dell'attività che svolgono l'analizzatore per l'attività del MISE e per l'attività in fase di revisione l'opacimetro non è stato ancora toccato per quanto riguarda il gruppo di lavoro visto l'importanza dei temi da portare avanti e in prospettiva diciamo il sottogruppo di lavoro accenderà un focus anche sulla misurazione delle particelle di PM che è un tema molto attuale vista la situazione ambientale globale quindi questo è un tema che appunto cercheremo di sviluppare almeno di affrontare e di condividere ponte sollevatori e provagiochi anche qui come detto in precedenza riguarda un provagiochi in cui le caratteristiche fisiche sono state ridefinite dalla direttiva europea come dice anticipato l'ingegnere Loreto in precedenza è stato inviato un quesito dalla commissione europea quindi di cui non abbiamo avuto traccia quindi è stata l'ultima riunione in presenza è stata presso l'OMC di Grosseto con tutti i rappresentanti del sottogruppo di lavoro per in qualche modo eseguire delle prove sperimentali che dessero contezza che la scelta che il gruppo di lavoro sta condividendo e portando avanti fosse corretta relativamente alla sicurezza stradale quindi mi aspetto che per metà giugno e per giugno anche il capitolato del provagiochi sia definito sia frizzato punto isolatore anche qui occorre riprendere l'attività in quanto il solito principio che dicevo in precedenza è un'attività non primaria in questo momento storico prova fari qui abbiamo l'aggiornamento sempre della normativa riguardante le attrezzature di verifica misurazione dei parametri di illuminazione dei fari dei veicoli soggetti a revisione periodica anche qui è stato preso il lavoro di output del sottogruppo terminato nel 2017 il documento è stato condiviso con tutti tutto il sottogruppo e l'attrezzatura avrà un differente principio di funzionamento per adeguarlo adeguare l'attrezzatura stessa al mercato adesso che si sta evolvendo ossia rilevare un allineamento non puntuale come erano i precedenti prova fari bensì un allineamento di un'area ben definita che consente appunto di migliorare la sicurezza stradale per quanto riguarda questo tema il fonometro anche qui abbiamo recepito i lavori del precedente gruppo di lavoro del 2017 e capitolato in fase di elaborazione di cesura l'ultimo gruppo di lavoro che è l'MCTC NET2 per i veicoli pesanti ossia l'adeguamento della linea di revisione dei veicoli di massa superiore a 3,5 nel lato del protocollo MCTC NET2 il capitolato è stato approvato dal sottogruppo di lavoro il quale ha condiviso nell'ultima riunione di metà maggio sono state eseguite delle simulazioni per verificare se le modifiche alle entry del protocollo fossero idonee allo scopo che ci siamo prefissati queste simulazioni sono andate a buon fine sono state portate delle piccole modifiche non strutturali ma non sostanziali ma abbastanza marginali quindi il protocollo è stato licenziato e sul capitolato appunto si appliceranno le specifiche del capitolato si appliceranno a tutti i pc perondazione e pc stazione nonché alle attrezzature dedicate anche al controllo tecnico dei veicoli di massa pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e non implicano pertanto l'obbligo di aggiornamento delle attrezzature dedicate alle operazioni di controllo sui veicoli leggeri il secondo step sarà quello di adeguare la gestione delle carenze in riferimento alla direttiva 2014-45 l'ultimo gruppo di lavoro a cui volevo dedicare più tempo è quella della metrologia e in quanto come accennava l'ingegner Giannuzzi è in fase di predisposizione un decreto ministeriale di metrologia dove saranno definiti i ruoli e le caratteristiche degli stakeholder che interagiscono nella produzione e gestione delle attrezzature definendo in questo caso le modalità di effettuazione dei controlli sulle attrezzature utilizzate per la revisione dei veicoli e i requisiti per la competenza degli organismi che effettuano le ispezioni per garantire l'imparzialità e la coerenza della loro attività di verifica inoltre un altro focus sarà dato per il sottogruppo di lavoro per definire delle scade di controllo che saranno il punto di partenza per riempire lo schema del decreto ministeriale che dovremmo che stiamo predisponendo in similità di tutina decreto 93 del mese il sottogruppo di lavoro cercherà anche di individuare campioni universali di riferimento per consentire di eseguire verifiche periodiche tramite campioni indipendenti dell'atterizzatura questo è un focus che ho lanciato su tutti i sottogruppi di lavoro per cercare insieme di arrivare a questo compimento a questo obiettivo quindi io ho terminato il mio intervento quindi ringrazio nuovamente tutti l'ingegnere Giannuzzi l'amministrazione e voi partecipanti per l'attenzione grazie grazie veramente all'ingegnere che ha fatto un intervento molto preciso e puntuale ci ha dato un bel quadro della situazione aggiungo soltanto a titolo di ulteriore chiarimento che le schede tecniche che perverranno dai lavori del gruppo di lavoro saranno quelle che andranno a sostanziare il decreto di nomina dei nuovi organismi di certificazione che si intravede nel futuro che dovranno essere appunto corrispondenze alla norma 17.020 almeno parte C oltre a dire come nota di colore che questo gruppo di lavoro che sta lavorando adesso è nato nel 1996 ai tempi miei quindi è un pezzo che lavora c'ha una vita lunga anzi mi pare che sia l'unico gruppo di lavoro che ancora sopravvive quindi a questo punto abbiamo finito la prima parte abbiamo sforato un tantino un quarto d'ora circa avevamo dedicato alla pausa caffè mezz'ora vedete se riuscite a berlo più velocemente in modo da stare qui verso le 11.40 a ciò che risparmiamo qualche minuto e vediamo di arrivare grossomodo in orario alle 13.30 come avevamo previsto quindi buon caffè a tutti quanti e ci rivediamo qui tra 20 minuti e ci rivediamo a tutti i nostri a tutti i nostri a tutti i nostri a tutti i nostri